Dato che nella mia esperienza di lettore ho letto sì o no un paio di romanzi storici e ultimamente avevo una grande voglia di addentrarmi nel genere, cosa ho fatto? Sono andato su Amazon, ho iniziato a spulciare i miei bei romanzi storici, chiaramente mi sono capitati subito sotto mano quelli di Manfredi, che chi è appassionato del genere sicuramente avrà letto conoscerà e chiaramente cosa ho fatto? Ho comprato un saggio e non un romanzo storico, ecco. Per chi non mi conosce io sono il paladino dei saggi e perché mi chiamo con questo strano nome? Perché mi schiero in difesa della saggistica, a me piace leggere saggistica più che narrativa, al contrario della maggior parte delle persone. Cosa succede? La maggior parte delle persone dice che la saggistica l'annoia è studiare, è una sorta di studio, invece per me è il contrario. La narrativa mi annoia, sarà strano dirlo, invece la saggistica mi ispira veramente, mi attira veramente, ecco. Perché io amo imparare nuove cose e amo metterle in relazione tra loro ed è per questo che porto dei consigli di saggistica, prevalentemente. Non è detto che in futuro non vi porti anche dei consigli di narrativa, perché comunque io non è che schifo tutta la narrativa, mi annoia perché riesco a trovare veramente poche poche opere che veramente mi piacciono tanto. Ed anzi, qualche volta comunque porto degli ibridi, se così possiamo chiamarli, che sono dei... ecco, l'esempio proprio calzante è il libro che ho consigliato qualche settimana fa, che si intitola Quando il respiro si fa aria, che è scritto sotto forma di romanzo, però è una storia vera e ha delle vicende comunque da cui si può imparare molto. Oggi vi parlo di come Roma insegna e in questo libro Manfredi, quindi, cosa fa? Parla dell'eredità che l'impero romano ha lasciato a tutti noi. Un'eredità che dopo duemila anni, più o meno, è riuscita ad arrivare fino ai nostri giorni, a differenza di molte altre eredità di altri popoli che anche in meno tempo non ci sono arrivate o comunque ci hanno... sono arrivate in maniera molto, molto meno marcata e questo comunque la va già a dire lunga. Manfredi parla di quelle che sono state le luci e le ombre dell'impero romano. Anche, se devo dire, si sofferma molto più sulle luci dell'impero piuttosto che sulle ombre e questo è palese, dato che molte delle scoperte, dei miglioramenti, dei progressi in ogni settore, da quello tecnologico all'artistico al civile, sono nate proprio a Roma. E molte di quelle invenzioni, anche se per la maggior parte magari migliorate, anche se alcune sono rimaste identiche, come vedremo dopo, le possiamo vedere tutt'oggi. Quindi, questo è un testo molto interessante ma breve, che non va, non pretende di andare a approfondire l'aspetto dell'impero romano, non sarebbe un'impresa titanica approfondire vari aspetti dell'impero romano in un solo libro. Quindi capirete che sconsiglio questa lettura a tutti quelli che si ritengono molto esperti del settore dell'impero romano, ad esempio degli storici, dei super appassionati, di gente specializzata in questo, quindi. È un'opera pensata per rimanere più sulla superficie e per un pubblico vasto. Il linguaggio è semplice e comprensibile e a tratti esce fuori anche il Manfredi narratore, anche se il lavoro di saggista, secondo me, lo fa molto molto bene. Quindi il solito consiglio, no? Ve lo do anch'io la lettura scorrevole, ecco. Comunque penso che la sua dote di narratore sia un'arma in più in questo testo. Come saprete, molte volte infatti si leggono saggi dagli argomenti molto interessanti, ma che risultano carenti dal punto di vista del linguaggio, di come sono scritti, no? Che sono un po' meccanici e dove si fa fatica ad andare avanti con piacere. Andiamo quindi alla ciccia e facciamo parlare Manfredi. Tutti gli imperi sono stati fondati sul sangue e tutti gli imperi sono destinati a cadere. In questo Roma non fa differenza. Ciò che fa la differenza, invece, è quello che rimane dopo. Molti imperi scompaiono avendo lasciato dietro di sé un campo di sterminio, rovine, stupri, massacri e nient'altro. Roma ha lasciato una civiltà. Noi viviamo ancora nella sua legge, ci avvantaggiamo nel suo sistema di comunicazione, delle poderose tecniche costruttive, parliamo la sua lingua e così i francesi, gli spagnoli, i catalani, i portoghesi, sudamericani, i centroamericani, i canadesi, parte degli abitanti dell'Europa orientale, dell'Africa occidentale e meridionale, del Maghreb, del corno d'Africa e anche gli inglesi. Alcuni dei popoli che sono stati interessati alla dominazione romana non avrebbero poi avuto nessuna pietà quando a loro volta si sarebbero trovati nel ruolo di invasori in Italia, Spagna, Galia o Africa. Avrebbero distrutto, stuprato, saccheggiato. In questo la storia del genere romano è tristemente quella che è. Gli altri non erano migliori, ancora una volta la differenza è in quel che rimane dopo o che non rimane affatto. Come si capisce dal libro, l'impero romano era sotto ogni punto di vista molto più evoluto di altri. Se guardiamo appunto infatti alla letteratura, all'arte, alla filosofia, all'architettura, alla tecnologia, alla scienza politica, ma anche alla scienza economica o alla giurisprudenza o all'arte militare, alle flotte sui mari, alle molte, molte legioni a difendere i confini, dalle scienze, dalle comunicazioni, dalla costruzione appunto delle strade, alberghi, osterie, l'urbanistica, le fognature all'avanguardia, gli impianti igienici, le terme, tutte queste cose qua. Ecco, se pensiamo a questa cosa qua, non c'è paragone, non c'è paragone con nessun altro tipo di popolazione e questo nel libro ci viene proprio spiegato molto bene. L'autore, quindi come va a fare questo lavoro, nei vari capitoli argomenta il perché di questa supremazia che ha permesso questo lascito che è riuscito a percorrere i millenni e le epoche umane più oscure. Quindi per spiegarvi i vari capitoli, per farvi comunque uno schema generale di quello che è il libro, così che potete capire se magari siete un po' esperti, se magari noi sapete già un po' qualcosa, potete capire se questo può essere un libro utile ad approfondire alcuni aspetti o se magari non può esserlo per il vostro caso singolo. Quindi cerco di farvi questo schema per capire un po' qual è l'argomentazione del libro. Nel primo capitolo Manfredi parla di come Roma sia stata in grado di imparare dai propri errori militari, quindi riporta nel discorso la sconfitta di Canne contro Annibale, in cui fa numerosi approfondimenti, poi fa, ricordo anche, un parallelismo tra quella che è stata la seconda guerra mondiale e la sconfitta contro Annibale. Nel secondo capitolo parla dei diritti civili e parla molto molto, ritornerà anche dopo, sulla multietnicità e sull'inclusività dell'impero romano. Di fatti Roma aveva questo bel asso nella manica che l'ha fatta progredire in tutta Europa e oltre, ovvero il riconoscimento delle proprie radici multietniche come ricchezza, l'inclusività come astuta e intelligente assimilazione dello straniero e l'amore per la patria come patrimonio da estendere, non da tenere per sé, non da escludere gli altri dalla propria patria. Nella strategia romana non c'era spazio per la coercizione. Allo straniero non veniva chiesto di rinunciare alle sue radici e alle sue specificità culturali, ma bastavano i vantaggi. Sarebbe stato lui stesso a voler diventare cittadino romano e a sviluppare un attaccamento alla patria e ai suoi valori. E vedremo che questo concetto comunque sarà riportato nei capitoli anche successivi. Nel terzo capitolo possiamo leggere dei progressi nel campo medico-igienico dell'impero romano che erano molto avalti rispetto all'epoca nel settore della chirurgia. Chiaramente non potevano essere negli altri settori medici perché mancavano proprio le conoscenze di base. E si parlerà anche della salute come valore pubblico, cosa molto importante. Guardate che i romani erano molto avanti per quanto riguarda il diritto pubblico, diritti e doveri pubblici. Per certi aspetti e per certe vicende che abbiamo visto negli ultimi decenni lo erano anche più avanti di noi, quindi questo ci potrebbe far pensare. Nel quarto capitolo troviamo il rispetto per l'ambiente perché già in quegli anni lì, e per chi non lo sapesse parliamo di alcuni secoli prima di Cristo e alcuni secoli dopo, quindi molto tempo fa, ecco già in quel periodo lì, l'impero romano aveva avuto dei problemini con l'inquinamento. Non ve la sto a fare lunga, ma date le enorme produzioni in tutti i settori di una civiltà che mettevano in gioco, anche loro avevano avuto, avevano cominciato ad avere dei problemi di inquinamento. Quindi in questo capitolo si parlerà appunto degli acquedotti, delle rete fognarie, dello smaltimento dei rifiuti urbani, di come cercavano di mantenere puliti i fiumi o tutto l'ambiente circostante. Mi viene in mente la città, le città appunto che i romani fondavano sempre queste città lungo i fiumi per cercare di smaltire rifiuti per non tenerli nella città, o mi viene in mente le legioni romane che quando si spostavano la prima cosa che facevano in un accampamento era costruire delle latrine a differenza di altre popolazioni. Questo evitava le epidemie, le malattie. Nel quinto capitolo vedremo ancora, Manfredi tornerà ancora, sull'inclusione di altri popoli, su appunto l'inclusione di alcuni popoli come gli etruschi, come i celti, come i greci, come addirittura i barbari. I barbari non erano un'eccezione. Chiaro, non è che voglia farvi passare che i romani erano i più buoni di tutti, semplicemente avevano capito che il gioco non vale la candela, cioè non vale la pena fare lotte inutili contro il diverso, ma è molto più remunerativo includerlo nel proprio impero, concedergli la libertà di esercitare tutto quello in cui lui crede, dalla religione a tutte le altre sue usanze, e usare le sue capacità a proprio vantaggio. Chiaramente era una sorta di compromesso, ve lo spiegherò dopo, ecco, anche quando ci torniamo nel capitolo, fra poco tanto, sulla religione, vi spiego anche una sorta di compromesso che facevano. Quindi se qualcuno pensava ai romani come una sorta di emblema della purezza razziale e della superiorità della razza bianca, ecco, i suoi primi abitanti, si legge dal libro, furono proprio invece il risultato della fusione di almeno tre popoli, che sono i latini, i sabini e gli etruschi. Quindi ci viene confermato appunto che Roma è nata polietnica. Nel sesto capitolo vediamo quello che sono stati l'ingegno e le tecniche tecnologiche dell'impero che ha dominato il mondo intero conosciuto fino a quel momento per la sua capacità, questo è molto importante, di dominare l'acqua. Se consideriamo attentamente la struttura dell'impero romano, vedremo che si tratta sostanzialmente di uno stato di tipo moderno. Ci sono un sistema politico, c'è un sistema finanziario, c'è un sistema militare, una burocrazia perfettamente funzionante. Esistono il principio per cui la legge è al di sopra di qualunque autorità e il concetto di cittadinanza che prevede diritti e doveri. La letteratura è ricchissima così come ogni altro settore culturale. Le opere pubbliche sono improntate a un'idea di utilità collettiva che sopravanza ogni altro fine, fosse anche la celebrazione del potere. Ma il vero motore, come dice Manfredi, che permise lo sviluppo e il progresso di Roma fu la sua prodigiosa capacità tecnologica. Si è quasi tentati di vederla come un talento naturale dei latini, che forse non furono mai un popolo di filosofi o di mistici, ma di certo furono un popolo di guerrieri e ingegneri. Difatti le filosofie, settori più mistici, li appresero appunto dalla cultura greca. Vero è però che il progresso tecnologico fu in gran parte possibile grazie alla mano d'opera servile, ma con alcune particolarità che resero il caso romano decisamente diverso da quello di altre società schiavistiche antiche. Comprensibilmente uno schiavo lavora e rende solo quel tanto che gli evita di essere punito, per questo i romani incentivarono il rendimento della mano d'opera servile, permettendo agli schiami di lavorare part time e di mettere da parte i risparmi che sarebbero serviti in futuro per riscattarsi dal padrone. Vedete, c'era sempre una sorta di meritocrazia, potrei dire, scappatoia, c'era sempre una strada, una soluzione per un cittadino romano o comunque se vivevi nell'impero romano anche da schiavo. Avevi sempre una possibilità futura, una prospettiva futura che ti spronava a fare cosa? A lavorare, a lavorare per l'impero. Nel settimo capitolo vediamo quelle che sono state le pandemie in quell'epoca. Non poteva mancare quella che è stata definita la peste Antonina, non vi spiego il perché del nome, la farei troppo lunga, e non poteva mancare chiaramente un parallelismo con questa qua e quella che è avvenuta oggi, ai nostri giorni, e l'influenza del 1918, la cosiddetta spagnola. C'è proprio una analogia fra questi due periodi, fra quello che è stata la peste Antonina e quella che è stata l'influenza spagnola, perché? Perché dopo di queste due malattie cosa è successo? Dopo la peste Antonina è crollato l'impero romano e molti storici dicono che è stata la causa principale. È avvenuta anche dopo di questo una decadenza mentale e filosofica che appunto ha lasciato spazio al periodo oscuro che conosciamo, alle superstizioni, agli esoterismi e via dicendo. Mentre cosa è successo? Nel 1918, dopo questa grande influenza spagnola, cosa è successo? Sono arrivati i governi totalitari, che è stata un'altra decadenza del genere umano. Nell'ottavo capitolo, che mi è piaciuto molto, molto interessante, abbiamo un approfondimento sulla religione. L'impero romano era basato su un politeismo inclusivo, come vi ho spiegato prima appunto. Il capitolo parla più che altro di quella che era questa religione romana contrapposto a quello che Manfredi chiama il fanatismo cristiano. Difatti i romani non perseguitarono mai, non fecero mai delle guerre di religione. È capitato pochissime volte che abbiano perseguitato appunto i cristiani, ma viene spiegato che è stata una sorta di difesa, perché gli stessi cristiani all'inizio, almeno così è scritto nel libro, diciamo che perseguitavano, ecco, cercavano con ogni mezzo di distruggere altri credi. È quello diciamo un po' che succede con i fanatici, ecco, dove un gruppo di persone ha la verità assoluta e vuole portare quel messaggio, vuole cambiare le menti altrui in modo sì che credano anche loro ciecamente a questa verità assoluta e tutto quello che viene detto di diverso deve essere distrutto. Vediamo appunto che in questo periodo l'impero scricchiolava sotto il peso di un lento declino, trappesse intoline e attacchi di altre popolazioni. Quindi cosa successe? Con tutto questo anche la religione pagana cominciava a scricchiolare, al contrario invece il cristanesimo esercitava un irresistibile potere attrattivo, perché forniva un modello spirituale forte in un'epoca turbolente e decadente, che era attraversata dalla paura della morte e assettata di risposte. Quindi se l'impero, come un vecchio dio creduto eterno, non appariva più immortale, bisognava grapparsi a un altro dio e alla sua promessa di immortalità, che era quello proprio che il cristianesimo prometteva. A dimostrazione del fatto che i romani erano proprio dei politeisti inclusivi, viene detto nel libro che i cittadini romani di fede israelitica potevano tranquillamente praticare liberamente il loro culto e anzi godevano addirittura di alcuni privilegi particolari, come per esempio l'esonero dal servizio militare, che sarebbe stato incompatibile con il riposo del sabato. Quindi già questo ci fa capire il fatto che veniva tranquillamente lasciato libero sfogo, diciamo, di professare e di praticare le proprie credenze, la propria religione. Il compromesso che vi dicevo prima mi pare di ricordare, ecco, che quando magari certe popolazioni che credevano in certi dei volessero diventare cittadini romani, potevano farlo soltanto che questi dei diventavano dei dei romani a loro volta, nel senso, no? Quindi potevano tranquillamente credere a questi dei, ma diventavano, diciamo, al servizio dell'impero romano, ecco. Nel nono capitolo si parla, Manfredi parla, di quella che era la corruzione nell'impero romano, perché non era tutto rosa e fiori, eh, chiaramente, e parla, scrive di alcuni, di quelli che sono stati gli scandali politico-giudiziari. Mentre nell'ultimo e decimo capitolo ritorna un po' su quello che è la cultura dell'impero romano, nel particolare la scrittura, con i vari interventi di Tucidide, che era uno storico, alcuni suoi episodi che racconta, e ci fa capire in quest'ultimo capitolo che invece, a differenza di un detto comune, no, che tuttora lo sentiamo dire, ci fa capire che invece con la cultura si mangia, con la cultura si mangia, si mangia e come? Perché la cultura, cari ragazzi miei, dovete sapere che è un amplificatore per ogni altro settore della società. Se non c'è cultura, niente evolve, niente progredisce, tutto è destinato alla decadenza, e questo l'abbiamo visto anche nell'impero romano. L'impero romano può essere un ottimo esempio da tenere come monito, no? Per vedere quali che sono state le varie cause del suo fiorire e le varie cause del suo decadere. La cultura romana delle origini si basò dunque su due pilastri fondamentali, ci dice Manfredi, la parola scritta e la giurisprudenza. Per comprendere l'importanza di quest'ultima, basti pensare che il diritto romano è tuttora alla base di molti sistemi legislativi. Il resto, la filosofia in primis, era considerato futile o pernicioso, roba da greci. A col trascorrere del tempo i romani compresero l'importanza di sviluppare una cultura che abbracciasse tutti i campi della vita sociale. Solo così si potevano produrre libertà, coscienza civica e capacità di gestione politica. Insomma, la cultura nel senso più vasto e generale del termine era garanzia di stabilità e progresso. Quindi per finire Manfredi ci dice che Roma ha sempre di che stupirci. In epoca imperiale Roma pullulava di biblioteche pubbliche dove chiunque poteva accedere a ogni campo del sapere e disporre di un'innumerevole quantità di testi sia in latino che in greco. Ecco, queste sono cose che ci... che almeno a me certe cose mi hanno stupito, no? Come il sapere appunto della presenza di queste numerose biblioteche in quel periodo lì. Perché se noi pensiamo al medioevo che è arrivato dopo, no? Al pensare che delle persone potevano andare in biblioteca a leggere, ci... ci... ci si accapponono i capelli, no? Come... come si potrebbe pensare, no? Chi mai andrebbe a pensare che in quell'epoca lì c'erano le biblioteche e una persona era così libera comunque di percorrere la sua strada, di andare a leggere, no? Chi mai potrebbe pensare che in quel periodo lì esisteva la posta, il servizio, due servizi postali, se non sbaglio, esistevano in Italia? Chi cavolo mai poteva... potrebbe pensare, se non un esperto, chiaramente. Io non lo conosco, non sapevo, non lo sapevo assolutamente nulla che esistesse un servizio postale all'epoca dei Romani. O che addirittura, o che addirittura ci sono, se non sbaglio, due o più reti fognarie a Roma attualmente in funzione e funzionanti. Cioè è roba dell'altro mondo, una rete fognaria che funziona da duemila anni, ragazzi. Ecco, quindi in questo libro potrete leggere di questi e molti altri aneddoti, farvi una iniziale cultura di base su quello che è l'Impero Romano. Potrete godere appunto del lato narrativo anche di Manfredi, di cui sicuramente in futuro leggerò qualche libro invece di stampo o di romanzo storico. E quindi mi fermo qua. Noi allora ci sentiamo, come sempre, al prossimo consiglio approfondito del paladino dei saggi.